Ormai sembra chiaro, ad Arezzo da qualche giorno sta girando quella che potremmo chiamare la banda della cassaforte. Dopo i tentativi in via Teofilo Torre, in via della Minerva, nelle ultime ore si è registrato un terzo assalto in zona Giotto. I malviventi hanno fatto irruzione nell'abitazione di un imprenditore, sempre alla ricerca della cassaforte. Anche stavolta però qualcosa è andato storto. I ladri infatti non sono riusciti ad aprirla, scappando senza bottino, ma lasciandosi alle spalle una scia di distruzione all'interno dell'abitazione della vittima, come dimostrano queste immagini. Il ride si è probabilmente consumato nel tardo pomeriggio di sabato. Sembra trattarsi di una vera e propria banda che pare selezionare con cura i propri obiettivi, sempre alla ricerca di una cassaforte andando a colpo quasi sicuro. Nell'ultimo episodio, visitando la casa di un imprenditore, in quello di via della Minerva, di un architetto, aprendo la cassaforte con un flessibile e in via Torre sfondando il finestrone con un piccone, una scia che alimenta il già diffuso senso di insicurezza. Grazie.